ragazze buon mercoledì 13 di marzo giornata fredda giornata serena variabile si è aperto il cielo sta arrivando la primavera ma soprattutto ragazze guardate un po allora ancora non ho fatto l'allestimento anzi mi devo sbrigare perché devo pure fare l'allestimento però ho avuto un nuovo scarico vorrei far vedere il mio look of the day di oggi molto velocemente anche perché sono degli articoli che vi ho fatto già vedere ma che sono strepitosamente belli pure accoppiati in questa maniera come ho fatto io oggi nuovo scarico vi dico che mi sono ritornate di nuovo disponibili gli anfibi color carta da zucchero proprio questi che sto andossando io che sono strepitosamente comodi 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 vi dico che tutti quanti gli articoli perché lì in mezzo c'è uno stand pieno pieno zeppo ragazze di fantasie di camice di bluse di felpette di pantaloni ragazze chi più ne ha più ne metta di vestitini che mi sono arrivati nuovi e che vi devo far vedere vorrei ricordarvi che tutto quanto quindi anche gli articoli nuovi che abbiamo scaricato tutto quanto la new collection le borse le scarpe ragazze tutto quanto fa rientra nella promo due e mezzo nuova promo che abbiamo fatto mi raccomando aderite mettete il like salvate il post per attivare la promo due e mezzo ovvero ogni tre capi acquistati il meno caro lo paghi la metà e quindi è veramente convenientissimo ovviamente ve lo ricordo ragazze l'unica cosa le uniche cose che sono escluse dalla promozione sono i capi che abbiamo al 50 per cento ragazze ma sbrigatevi perché stanno terminando piano piano si vanno a stringere le pareti articoli a 50 per cento ragazze che sono qualcosina proprio pochissime cose di fine serie della collezione invernale tante cose che però non siamo riusciti a collocare perché ragazze stiamo dividendo il negozio a colori quindi ci sono un sacco di colori che non riesco a collocare che abbiamo messo al 50 per cento quindi sbrigatevi a passare allora detto ciò tanto vi faccio vedere il mio look of the day di oggi perché le scarpe come vi stavo dicendo ci sono ritornate di nuovo disponibili non me lo ricordo ve l'ho detto vabbè comunque mi sono ritornate di nuovo disponibili le scarpe carta da zucchero l'anfibio che sto andossando io ultra comodo ragazze perfetto per questa primavera soprattutto perfetto per quanto riguarda gli abbinamenti quest'oggi ho deciso di vestirmi blu e color carta da zucchero con lo spolverino a costine che abbiamo ancora disponibile ragazze misso modale viscosa quindi perfetto per oggi che è stata una giornata fredda ci sono state veramente benissimo disponibile ancora questo modellino qui sono gli ultimi pezzi però mi raccomando sbrigatevi nella versione nera con i bottoni nella versione avion eccolo qui come quello che indosso io che è fantastico nella versione bianca parliamo di una taglia unica perfetto da poter mettere adesso come cardigan direttamente tra un pochino ragazze quando andate a togliere il cappottino la mattina presso ti vuoi mettere una cosa veloce da mettere su per portare il bimbo a scuola con una magliettina a mezza manica è delizioso è perfetto ragazze taglia unica con una vestibilità incredibile anche perché il tessuto come potete ben vedere è a costine rimane già morbido di suo non è eccessivamente aderente anzi taglia unica con uno scuola v che secondo me sta benissimo oppure sopra un vestitino perché è leggermente sbasatello per quanto riguarda il sotto mi sono portata avanti ragazze la maglia a retina yes my love la maglia a retina le amo le adoro sono perfette per questa primavera perfette da mettere pure sotto un cardigan come ho fatto io oggi perfette da mettere sotto una bella giacca perché comunque ragazze è veramente fantastica taglia unica anche questa la retina è aspetta stavo girando la fotocamera non c'ero riuscita la retina è un semi elasticizzato nella parte di sotto troviamo il busto coperto da maglina di viscosa una canottiera che praticamente copre tutto quanto il busto che rimane pure lunghietta tanto quanto la maglia a retina io infatti l'ho messa dentro al pantalone per quanto riguarda il pantalone niente non riesco a girare la fotocamera oggi ragazze sono rimasta bloccata per quanto riguarda il pantalone ho il jeans 5 tasche skinny modello push up vita medio alta disponibile nella versione eccolo qua ragazze assortito nelle taglie a partire dal 38 fino a una 54 e vi ho fatto vedere il mio look of the day di oggi che è molto semplice che già vi avevo fatto vedere soprattutto per ricordarvi che lo spolverino ce l'abbiamo ancora disponibile che il jeans ci è ritornato di nuovo disponibile a partire dalla taglia 36 fino a una taglia 54 ma soprattutto che le maglie in retina che vestono incredibilmente bene ci sono ritornate di nuovo disponibili quindi ve le faccio vedere subito ragazze perché nella versione in tinta unita proprio come quella che sto indossando io ce le abbiamo riassortite oggi velocissime perché ve l'ho detto sono perfette per la primavera le stiamo stravendendo disponibile nella versione nera e celeste ce l'abbiamo ancora disponibile nella versione rosa e latte andate a fiducia perché ragazze senza che mi sposto new entry le fantasie che ci arrivano guardate quanto è bella questa nella colorazione nera con queste sfumature e nella colorazione celeste fantasia molto candy molto caramellosa con il rosa e il latte disponibile sempre a retina ma adesso cominciamo ah no aspetta vi devo far vedere pure questa voi direte perché cominci sempre dai riassortimenti perché ci siete voi che passate al negozio e mi chiedete manuela mi raccomando quando ti ritorna di nuovo disponibile fammela vedere subito eccola qui la maglia a retina questa fantasia optical ce l'abbiamo pure nella versione celestina eccola qua voilà ma adesso sono pronta aspetta sposto poco poco il carrello così vi faccio vedere un pochino di cose prima che mi entri qualcuno taglia unica il tessuto è un cotone lavorato effetto morbido morbido sembra quasi pellutino ma è quel tessuto leggero leggero che si porta liscio nella parte interna e parlando di cotone vi ricordo che si può portare benissimo a pelle new entry la versione con la zip della felpetta quella corta ragazze che abbiamo stravenduto modellino corto che arriva a toccare il passante del pantalone quindi corto sì ma non troppo quello che sta piacendo da impazzire alle mie girls alle nostre ragazzette ma soprattutto sta piacendo da impazzire pure a chi si veste col jeans vuole una felpina un pochino più corta morbida in taglia unica con una vestibilità eccezionale ma soprattutto tutta fibra naturale perché è cotone disponibile nella versione latte nella versione nera e nella versione sabbia il modello chiuso quello con l'accetto che si può regolare che rimane pure un pochino più aperto ci è ritornato di nuovo disponibile a grande richiesta finalmente è ritornato nella versione rosa e nella versione nera ce l'abbiamo pure nella versione chocolate e quindi ha sortito nelle colori siccome di questo tessuto ci è piaciuto tantissimo è perfetto per questa stagione ha una vestibilità eccezionale il pantalone con l'elastico in vita il pantalone con i tasconi laterali e soprattutto con l'elastico nella parte di sotto che quindi si può regolare è perfetto da mettere con una fibbia è perfetto da mettere pure con una sneakers ragazze ci è ritornato new entry nella versione latte che volendo potete fare anche coordinato con la felpetta bella e nella versione nera questi erano finiti ma siamo riusciti a ritrovare il tessuto anche perché è cotone quindi adesso è perfetto ragazze è di nuovo disponibile nella versione nera e nella versione latte da poter coordinare alla felpa chiusa e alla felpetta con la zip sempre cortina altra news perché comunque la primavera si sa è anche il tessuto di Giorgetta è anche cosittino un po' più frivole un po' più chicchettine e anche un po' più bon ton ragazze non lo so perché comunque a me il Giorgetto mi dà molto di bon ton anche messo su un jeans che magari lo va a rendere un po' più casual magari un modello di quelli dritti un po' più sportivo bello però con una bella camicina in Giorgetto con una bella blusetta proprio come questa che ha la manica a campanella lo scollo incrociato per quanto riguarda la parte del busto troviamo sempre la maglina quindi tutta fibra naturale qui nella parte del busto che va a coprire la leggera perché poi alla fine guardate non è trasparente io ho la mano che apro e chiudo sotto nemmeno si vede si intravede appena appena ne è fatta appaccatuta e parliamo di una blusetta che ha l'elastico fino fino sotto al seno e l'incrocio che si va a chiudere una volta indossata che ha una cinturina deliziosa e soprattutto ha questo effetto godè che va sul fianco una taglia unica che secondo me su un ginsetto ragazze sarebbe perfetta ma pure come sto vestita guarda un po' guarda un po' cioè no oggi era perfetta cavolo da mettere guarda quanta carina perché poi ha questo avion questo color latte la base nera sta perfetta ecco vabbè ragazze vi do uno spunto questa blusetta in Giorgetto che dici sì vabbè per andare a cena per andare in un locale perfetta sì però poi fa freschetto ci ho andato a mettere sopra il cardigan come ho fatto io questo qui lungo avion il jeans perché la lunghezza ecco arriva praticamente a questa altezza per quanto riguarda la blusa il ginsetto nero e l'anfibbietto color carta da zucchero perfetta ragazze ho fatto un altro complato al volo mamma mia quanto è figo bello mi piace allora stiamo stravendendo stavo dicendo le camicie in raso queste che hanno una morbidezza particolare perché sono veramente fantastiche sono una taglia unica che veste bene anche a te che hai il seno un pochino più grande che rimane morbida che ha la manica leggermente proprio appena appena effetto palloncino ce l'abbiamo disponibile in new entry nella colorazione blu con la richina bianca ancora disponibile perché è veramente strepitosa questa ragazze poi è questo saten che non traspare che è morbido che ha pelle dà quella sensazione fantastica disponibile nella versione nera con la richina latte blu con la richina latte ce l'abbiamo ancora è disponibile ovviamente che poi sto andando qui ve la faccio vedere dal busto ragazze faccio prima latte con la richina blu fina fina bella guardate come veste bene pure il dab a proposito di gilet ragazze ritornati di nuovo disponibili gilet nei neri che vestono benissimo per tutte quante voi che siete passate e non avete trovato l'assortimento delle taglie eccolo è ritornato allora mi ha preso il cuore mi ha preso il cuore perché voi lo sapete per me la primavera è il multistrato è la giacca è il blazer è come se portassi allora quando metto il blazer non so se voi ve lo fa questo effetto come se portassi intacco ti senti un po' più non so come spiegarlo però guardate che cos'è questo blazer leggermente satinatino l'effetto non lucidissimo leggermente una punta la colorazione no aspetta questo ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere però abbinato perché uno dice sì bello il gilet però non è che ho tutte ste feste non è che ho tutte ste cose cioè con una stampa ci metti una stampa un jeans una cosa molto molto easy guardate è carino è bellissimo taglia unica modello foderato è un blazer quindi non ha bottoni ha la manica leggermente arricciatina perché primavera ragazze cominciamo a tirare su ste maniche dai fantasia con il grigio il latte il rosa le sfumature del rosa guardate quanto sono belle fantasia stampata cioè l'avete riconosciuto? è Snoopy mamma mia il mio fumetto preferito guardate questa rosa che cos'è questa sun jeans questa è bellissima bellissimissimissimissimissimissimissimissima taglia unica, veste benissimo, ve la farò vedere indossata, sì ve la farò vedere indossata perché la adoro, cioè questa poi si abbina su tutto perché se questa la vuoi rendere un po' più figa e non solo da jeans, questa ci fai un abbinamento col sabbia, aspetta guarda, oggi mi ha presa a fare i completi ragazze, non riuscirò a farvi vedere tutto sicuramente perché se continuo a farvi vedere i completi, però guarda, allora, questo che è il pantalone, quello a sigaretta, quello con la tasca d'agliocino, se il tessuto è seme elasticizzato, che ce l'abbiamo disponibile latte e anzi a proposito mi è ritornato di nuovo assortito disponibile nero, tutte le taglie, ragazze veste benissimo, si può portare con il risbottino, si può portare lungo, cioè così, è una camicina bianca? ma sì, pure una camicina bianca, una camicina celeste, si può mettere qualsiasi cosa, vabbè, ve lo faccio vedere facile facile con una maglia a retina, chiara, semplice, proprio, dici vabbè, ma la giacca è particolare e mi ci vesto semplice sotto, a parte che pure con la camicia ci sta bene, perché si sa, le giacche e le camicie, se non crolla tutto, ve lo faccio vedere, guarda che è completa, guardate, guarda quanto è figo, guarda quanto è figo, questo marroncino è proprio lo stesso, bello, 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 taglia unica, veste benissimo e ve l'ho detto, ve la farò vedere indossata, mi sono arrivate perché comunque ci vestiamo a strati e non tutte siete freddolose come me ringraziando Dio anche per voi mi sono arrivate e siccome mi piacciono tantissimo la prima cosa che ho pensato è stata io me le prendo perché adoro le maglie traforatine questo sangallo a me fa impazzire è veramente delizioso è una cosa così fresca primaverile, primavera, estate voglia di bello di sole, di giornate bellissime sangallo blusetta, mezza manica morbida taglia unica, modellino over direi perché questa veste benissimo tutte le taglie come me la posso mettere io? che non ho tanto seno e soprattutto che sono freddolosa ci metto una bella magliettina aderente di quelle basiche in maglina di viscosa sotto a contrasto così mesce fuori pure l'effetto del traforatino cioè guarda quanto è bella e questa ve la faccio vedere con una magliettina sotto e ricordate a vestirmi un po' più leggerina con le cosettine nuove anche se non sento tutto sto grandissimo allora intanto vi dico perché comunque come me di freddolose ce ne sono ancora in giro maglioncino un filo di viscosa taglia unica morbidino anche perché ragazze comunque questo oggi era abbastanza freschetto soprattutto stamattina maglioncino un filo di viscosa la viscosa deriva dalla polpa del legno trattata precisamente dal faggio quindi fibra naturale filo nemmeno troppo erto modello col collo a barca con la manica che non ha la cucitura e che quindi rimane molto molto morbida non è un pipistrello ragazza non è un pipistrello veste veramente carina questa secondo me e ci può dare molte soddisfazioni soprattutto il fatto che ha questo cannolè nel collo mi dà la spalla scesa probabilmente taglia unica modello over disponibile nella versione con il rosa disponibile nel celeste latte e ovviamente il nero che non manca mai guardate quant'è carina ecco questa posso metterla sin da subito senza andarmi a mettere in multistrato vi faccio vedere velocissima perché comunque comincia anche il periodo delle palestri comincia anche il periodo che è a scuola per chi lavora a scuola fa caldo comunque se uscite all'ora di pranzo magari ci sta che andate già in giro a mezza manica vi faccio vedere che ci sono arrivate un tripudio di t-shirt stampate che poi vi farò vedere piano piano ragazzi cerco di farvi vedere più cose possibile anche se ecco non ce la posso fare t-shirt che ci sono arrivate nella versione bianca taglia unica ma morbide e ci sono taglia unica e morbidine il giusto guarda quant'è carina questa con il quadrifoglio che porta sempre fortuna taglia unica ottimo il cotone che è un semi elasticizzato che veste benissimo ragazze e mezza manica ci sono arrivate nella versione nera e nella versione cioè guarda questa che cos'è palloncini bello cuoricini farfalle questa ce l'ha tutte tutto ciò che vi piace palloncini cuori farfalle e stampa con la scritta love e poi è nera allora io ho un sacco di cose da farvi vedere solo che devo un attimino fare il punto della situazione e prima di farvele vedere devo vederle bene pure io perché di articoli nuovi ne sono arrivati veramente tantissimi da vestiti pantaloni della tuta maglioncini di filo maglioncini di filo glitterati che mamma mia quanto è bello questo ma ve lo faccio vedere domani perché sono quasi le 7 devo finire un attimo di sistemare devo pure lì che ho smontato dal carrello per farvelo vedere ragazze quindi vi do appuntamento a domani che è giovedì ragazze domani è giovedì mezza giornata mi raccomando ricordate io sono qui che vi aspetto con tutti quanti questi articoli nuovi con il negozio che spero domani mattina di farvi trovare già bello e sistemato insomma ce la metto tutta perché adesso mi do da fare con la promozione 2,5 che è valida su tutti quanti gli articoli tranne quelli al 50% che già sono scottati al 50% perché vi ricordo che la promo 2,5 ogni 3 capi acquistati vi dà diritto al capo meno caro di pagarlo soltanto il 50% quindi è veramente vantaggiosissima vado a sistemare tutto quanto mi raccomando occhi aperti su Instagram Facebook Youtube TikTok con RGN Lovets che c'è sempre vi ho pubblicato pure questa mattina un sacco di foto fatemi sapere mettendo il like quali sono gli articoli che vi piacciono di più così mi concentro per farvi ritrovare belli disponibili e assortiti e poi mettete il like e salvate il reel della promo 2,5 così quando passate qui al negozio già l'avete attivata ok ci vediamo da Manuel è tutto io vi aspetto domani a giovedì mezza giornata dalle 9.30 alle 13.30 al pomeriggio siamo chiusi ricordatevelo ci vediamo ciao